Sono raccontato i periodi più antichi rispetto a quelli di cui ci siamo occupati noi. A Carri c'è anche il paleolitico che è stato citato, ma quando Capri era una parte della penisola sorrentina e quindi è come se fosse un pezzo della penisola. Qualcosa ha trovato anche di neolitico, però insomma molto olvidato. La penisola sorrentina, avete avuto forse anche la conferenza del professor Percerelli che dovevi abbia fatto. C'è una volta di Nicolucci. Nicolucci ha un'altra dimensione, c'è un'ottocento e c'è una materia che sia neolitica che sia da su pronti. Mi pare di arrivino a me, mi pare di capo. Sì, sì. Grazie ancora, ci sono altre domande?